Al sisi, al sisi, al sisi. All'indomani della chiusura dei seggi, lo spoglio per le presidenziali in Egitto rivela già una schiacciante maggioranza per il generalissimo capo di Stato in carica che di fatto correva contro se stesso. Per i risultati definitivi bisognerà attendere lunedì, ma dati preliminari sembrano replicare le percentuali bulgare che quattro anni fa gli avevano consegnato il paese con oltre il 97% dei voti. Arrestati o dissuasi dal partecipare gli avversari più pericolosi, l'unico in lizza, Musa Mustafar Musa, dopo aver fatto campagna per al sisi fino alla vigilia della sua candidatura, ha come previsto raccolto appena una manciata di voti, a dissuadere dall'astensione, oltre a sanzioni pecuniarie, anche spuntini e pasti offerti davanti a numerosi seggi.